De Farco si porta l'isola incontri dell'Inghilterra, siamo in Belgio. Com'è l'approccio a Bruxelles? La città è iniziale. C'è la maionese, guarda qua. Io voglio di merda. C'è la maionese in guazza. Chi legge? Allora, il frumento e l'orzo vengono macinati dal bulino, che si trova al primo piano. C'è la maionese, i cereali per una volta macinati cadono attraverso una tramoggia. Ragazzi, qua si parla di fermentazione spontanea, fermentazione in bottiglia. No, ma non hai capito un cazzo, vabbè che parlava in inglese, però era facile. C'è anche un cane che fa i lieviti, questo dà un sacco di lieviti. Odore di vino! Che odore c'è Edone? Miraccio! Acidone! Si sente già l'acidone! Ci hanno offerto delle birre speciali, campione. La prima è una... No, non dico perché per non fare tutte le figure... È una grande crue. No, una grande crue. Invecchiata a tre anni. Svanze. Una Svanze del 2012 con Rabarbaro. E poi qua passiamo alle superchicche. Questa era la Svanze. Questa è invecchiata in botti di cognac. Questa era la Svanze. Questa era la Svanze. Mannaggia! Mannaggia! Spainzi! Sta facendo confusione. Svanze e un di reaggio. E poi abbiamo questa che invece è invecchiata in botti di cognac. E questa non l'abbiamo ancora assaggiata. 50 a 14. 50 a 14. 50 a 14. E coordinate di Bruxelles. 50 a 14. E questa invece è l'ultima, una superchicca solo per noi. una Cagnon del 1996. E questa sarà una superchicca all'odore. Edone, com'è andata la cena? Guarda, pesante, molto pesante. È stata difficile. Abbiamo dovuto mangiare di fretta, furia e molta furia. Ma cosa? Cosa avete mangiato? Veggiano, vegetariano. Alla fine c'è stata la sorpresa. Un conto saldato con grande maestria. Un grande onore. Soprattutto con grande rispetto del karma. Che cosa fai? Ho sbagliato il trego. Sì, sì. Beh. Cantilloge. Cos'è? È una... Bruri. E cos'hai capito di Cantilloge? Le riassunti? E' acida. E' molto buona. Staglia e pezzetti. E' molto buona. Beh, prendi il di tuo, diciamo. E' una chicca per chi piace la birra a fermentazione spontanea. Antepone di sapori acidi. Antepone di sapori acidi. Antepone di sapori acidi. Questa sì, te lo sapevo. I frati che sono degli grambori al cuore. Ah, la pepra? Estraccano il siero di birra. Cioè qua abbungono birra. La tradizione vuole che nel secento iniziavano la... ci fu il... e poi... Ah, guarda i quali, l'ambito, la birra! Ma che sai che fai? Oh, ma che bravo! È lì la telecamera, eh? Come si vede ormai? Ecco, ti facciamo versare le grappe che ci offrono... Ma diiii, dai, su! Noi non l'abbiamo arrivata in dito, ormai... Lei è qui, le? Eh, marami, perdoni ma... Se è possibile... perché... perché... ...chef è andante... ...to tutto il mondo sulle pantaloni... Ma sì... Ma se la mettiamo al caffè? Sì... Sì... Grazie a tutti